Un saluto a tutti i lettori di SmartphoneLab.it Stiamo registrando questo video con iPhone 8 Plus alla risoluzione del 4K a 60fps Il primo smartphone che permette proprio la registrazione a 60fps Ovviamente c'è la stabilizzazione ottica per entrambe le camere Quindi mi muovo un po' per farvi vedere proprio la stabilizzazione di questo smartphone Ovviamente per un dispositivo che costa 949€ mi sembra praticamente il minimo Vediamo un po' l'adattamento alla luce ambientale Continuo a muovere giusto per farvi apprezzare un po' la qualità di 60fps Vediamo se riusciamo a fare una piccola macro Continuiamo un po' a muoverci Bel contro sole Devo dire che l'adattamento è decisamente buono Facciamo anche un piccolo zoom Su Questo palazzo Fino a 3x A 2x ovviamente E lo zoom digitale E volevo dire l'ottico Scusate Sardiamo indietro Video girato con iPhone 8 Plus Alla risoluzione del 4K a 60fps Come sempre per tutti gli altri dettagli Guardate la recensione completa Ciao ciao